Amici di Storie Fuorigioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. In passati appuntamenti sul nostro canale abbiamo passato in rassegna alcuni grandi bomber di provincia che hanno fatto la storia del calcio italiano. Stavolta ci specializziamo su quegli attaccanti che sono stati dei veri e propri crack del campionato di Serie B, tanto da arrivare a formare la top 10 dei marcatori più forti di sempre del campionato cadetto. Ecco la classifica dei 10 bomber con più gol nella storia del campionato di Serie B. Marco Ferrante, 114 gol Si tratta sicuramente del bomber degli anni più difficili e combattivi del Torino. Dei 114 gol realizzati nel campionato cadetto, Ferrante ne ha segnati ben 78 in maglia granata, laureandosi anche capocannoniere della Serie B con 26 gol nella stagione 1998-99. Ricordato per la sua esultanza che richiamava il Toro, Ferrante si è confermato anche nella stagione 1999-2000 segnando 18 gol in Serie A, sua miglior performance nel massimo campionato. Dario Ubner, 116 gol In questo caso parliamo di un vero alfiere dei bomber di provincia. Ubner in carriera si è tolto lo sfizio di essere capocannoniere nelle tre serie principali, in Serie C1 con la maglia del Fano, in Serie B con la maglia del Cesena con 22 gol nella stagione 1995-96 e in Serie A con 24 gol con la maglia del Piacenza nella stagione 2001-2002. La Serie A l'ha trovata solo a 30 anni con la maglia del Brescia, nonostante le medie realizzative altissime. Non ha mai avuto la soddisfazione di indossare la maglia azzurra. In B ha giocato e segnato solo con due squadre, 74 gol col Cesena, col rammarico di aver mancato la promozione in Serie A con i Romagnoli perdendo lo spariggio col Padova, e col Brescia, club con il quale ha segnato 42 gol in B e 33 in A. Federico Dionisi, 117 gol Il bomber di Rieti ha legato le sue pagine più importanti all'ascesa del Frosinone, realizzando 63 reti in giallo-azzurro, delle quali 52 nel campionato cadetto e 10 in Serie A. Dionisi veniva già da stagioni importanti in cadetteria e ora si sta ripetendo con la maglia dell'Ascoli. 17 gol nella sua migliore stagione, la 2016-2017 a Frosinone. Dionisi si è confermato un giocatore dalla grande continuità pur non essendo un capocannoniere, affermandosi tra i migliori bomber di categoria. Francesco Caputo, 117 gol Ciccio Caputo da Altamura, intramontabile e presente in maglia Sampdoriana anche nell'ultima Serie A. È partito dai dilettanti fino a indossare la maglia del Bari, ma in Serie B ha giocato continuativamente per 10 anni, dal 2008 al 2018, brillando in particolare alla Virtus Centella con due stagioni consecutive da 17-18 gol. A 31 anni il premio della prima Serie A onorata con 16 gol, con la maglia dell'Empoli. Nel 2020 la soddisfazione dell'esordio con gol in nazionale in occasione di Italia-Moldavia 6-0. Francesco Tavano, 119 gol Da un ciccio all'altro Caputo e Tavano hanno avuto in comune l'aver legato entrambi ad Empoli, pagine particolarmente importanti della loro carriera. Nativo di Caserta, Tavano esplode in realtà a 26 anni ad Empoli, 19 gol nel campionato di Serie B, segnato dalla promozione dei Toscani. Nella stagione successiva l'Empoli si qualifica per la Coppa UEFA e Tavano si ripete, segnando ancora 19 gol, ma stavolta all'esordio in Serie A. Tenta il grande salto prima a Valencia e poi alla Roma, quindi torna bomber di provincia, sempre in Toscana ma stavolta a Livorno, dove nella stagione 2008-2009 è capocannoniere con 24 gol, riporta i Labronici in Serie A. Quindi il ritorno ad Empoli ancora gol a Raffica, in particolare i 22, nella promozione conquistata nella stagione 2013-2014 sotto la guida di Maurizio Sarri. Antonio De Vitis, 124 gol Totò De Vitis, Salentino Doc e figlio del capitano del Lecce Gino De Vitis, non poteva che esplodere in Puglia, ma con la maglia del Taranto, 28 gol pesantissimi per le salvezze rosso-blu tra il 1986 e il 1988. Da Taranto passa a Udine, dove conquista la Serie A realizzando 15 gol, ma la massima categoria non gli porta fortuna, con un grave infortunio che ne pregiudica anche l'anno successivo. Torna a segnare a Piacenza e poi a Verona, club in cui conquista e assaggia la Serie A, ma è sempre l'aria della cadetteria a esaltarlo pur non avendo mai conquistato il titolo di capocannoniere. Giovanni Costanzo, 130 gol Qui parliamo di una vera e propria istituzione per la categoria. Sarebbe ancora il top scorer rimbattuto considerando il campionato 1945-46, che rappresenta però un torneo misto tra Serie B e C e non può essere dunque considerato nelle statistiche della B unitaria. Protagonista del calcio degli anni 30, prima della seconda guerra mondiale, Costanza ha vinto per due volte la classifica dei cannonieri della B, dove ha giocato a fine carriera anche nella squadra della sua città, la Biellese, nella B a tre gironi. Importante è anche l'esperienza a Livorno, squadra in cui ottiene la promozione in Serie A. Andrea Caracciolo, 132 gol L'Aironi ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia del Brescia, dove ha segnato tutti i gol realizzati in Serie B nella sua carriera. 24 reti nella sua migliore stagione segnata dalla promozione in A nel 2010, pur senza conquistare il titolo di capocannoniere cadetto che gli è sempre sfuggito. Anche in Serie A Caracciolo è comunque riuscito a ben figurare, ma sempre con la maglia delle rondinelle, segnando 12 gol nel massimo campionato in tre stagioni diverse, 2003-2004, 2004-2005 e 2010-2011. Daniele Cacia, 134 gol Bomber Calabrese a 23 anni esplode al Piacenza in B, con una stagione da 18 gol e sembra il preludio a qualcosa di davvero importante. A Piacenza segnerà complessivamente 52 gol in cadetteria, la Fiorentina punta su di lui, ma la Serie A è un'altra musica. Cacia torna in Serie B e sembra un po' perdersi tra la Regine e il ritorno al Piacenza. Quindi il nuovo boom a Pado è soprattutto a Verona, dove nel 2014 è capocannoniere con 24 gol. Gli scaligeri tornano in Serie A, ma nella massima Serie Cacia si incaglia ancora. Ad Ascoli però, a 33 anni, la magia si ripete ancora in B, con 29 gol in due stagioni. La Serie B, il bomber di Bolzano, la trova solo a 27 anni con la maglia del Ravenna, dopo una trafila infinita e tanti gol nelle Serie inferiori. Nessuno può immaginare che diventerà il bomber principe della categoria. Porta il Venezia in A con 17 reti nel 1998, ma il feeling con la massima Serie non sboccerà. Conquista il cuore dei tifosi napoletani, ma 32 anni dopo una stagione al Torino, quello che deve essere il crepuscolo della carriera a Vicenza diventa la storia più bella. Sette stagioni in B con i berici e ben 74 gol realizzati, le 19 reti della stagione 2002-2003 l'annata migliore e, pur senza mai essere capocannoniere, entrerà nella storia come miglior marcatore di sempre in categoria. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!